si sono appena concluse a roma le audizioni per la capitale italiana della cultura del 2025 risultato si saprà ad ore ma ci si sta già preparando per il 2026 e Rimini si candida, si candida con un progetto importante, un piano strategico per il futuro della cultura nella città e nelle terre malatestiane. Per questo cerchiamo tre direttori del programma, un direttore dedicato al tema dell'heritage, del patrimonio, un direttore dedicato al tema dello spettacolo dal vivo e della progettazione digitale, il terzo vocato a lavorare con noi soprattutto sul tema della divulgazione scientifica. Le grandi sfide del futuro che saranno le sfide di Rimini per una progettazione partecipata di una candidatura che sarà davvero importante, che vuole lasciare la traccia sia nella comunità sia a livello nazionale. Partecipate!